Ragazzi, io lo dico, ho la netta sensazione che la rosa non sarà completa perché io non ci credo a un Napoli che in poco più di due settimane fa quattro acquisti Buon pomeriggio ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video io sono Dario Adelto e Dario On e oggi siamo qui per commentare la bellissima giornata di ieri, sono successe tante cose ieri, tante cose brutte, mi vedevi da dire soltanto brutte e quindi eccoci qua, allora prima di cominciare con una piccola parentesi come ben sapete ieri avevo caricato sul canale il video sullo scopriamo di Brescianini video che stava andando anche abbastanza bene, 200 persone più o meno l'avevano visto e stava andando abbastanza bene. Che è successo però? Esattamente cinque minuti dopo il... diciamo la pubblicazione del video è uscita la notizia che l'affare stava saltando io poi me ne sono accorto un po' dopo perché stavo facendo altre cose e quindi ragazzi il video poi l'ho tolto, l'ho dovuto togliere perché non aveva senso io in genere quando vedo le visite mediche, quando vedo il calciatore fare le visite mediche dico ok è fatta perché no, è successo in passato con Buongiorno, con Rafa Marin io in genere aspetto le visite mediche per considerare le fatte dopo ieri non considero manco più le visite mediche, adesso aspetterò proprio il tweet di DeLaurentis quando vedo benvenuto tizio il tweet di ADL allora vi metterò il video perché sinceramente mi da fastidio sta cosa, che metto il video poi dopo esce fuori che è tutto saltato, mi da fastidio e quindi il video l'ho tolto detto questo cominciamo subito e partiamo proprio da Brescianini ragazzi perché c'è da fare un bel discorsetto allora partiamo dal principio ieri notte salta Cayust al Brentford perché salta? buh c'è chi dice problemi nello scambio coi documenti che vuol dire? ci hanno dato passaporto invece di qualcos'altro? cioè non ho capito sta cosa Sky Sport UK invece dice che Cayust non avrebbe superato perfettamente le visite mediche comunque ognuno dice una roba non si sa perché è saltato Cayust il fatto sta che però salta che succede poi? nella mattinata di ieri Manna va a Londra nel mentre però il Napoli fa comunque le visite mediche a Brescianini e io la dicevo eh bene, meno male perché io quando ho letto Cayust è saltato la prima cosa che mi è venuta in mente è è saltato allora anche Brescianini infatti l'avevo scritto anche su Twitter la sera stessa tu guardi il video di ieri mattina dove vedi Brescianini che fa le visite mediche vedi Canonico e dici vabbè allora il Napoli lo vuole prendere effettivamente a prescindere da Cayust evidentemente perché Conte lo vuole, lo ha chiesto e quindi là stavo tranquillo poi però succede il misfatto Fabrizio Ramano dice stallo tra il Napoli e il Frosinone per Brescianini poi salta tutto, si inserisce l'Atalanta che se l'è preso e oggi, stamattina farà le visite mediche quindi in giornata probabilmente l'Atalanta ufficializzerà anche Brescianini ora, a me non piace quando gli addetti ai lavori prendono per il culo i tifosi perché ragazzi ieri pomeriggio si è detto che Brescianini è saltato perché il Napoli ha di meglio tra le mani perché vuole un giocatore di maggior spessore e tu questo te ne rendi conto durante le visite mediche cioè tu fai le visite mediche a Brescianini poi nel mentre chiami Canonico no no no, ferma tutto vogliamo uno più forte, uno di maggior spessore a chi volete prendere in giro ma se veramente pensate che questa storiella che noi abbocchiamo a questa storiella cioè tu veramente vuoi farmi credere che il Napoli durante le visite mediche a Brescianini ha detto togli tutto di mezzo vogliamo uno di maggior spessore non è credibile questa storia non è assolutamente credibile la verità è che Brescianini è saltato perché è saltato Cajust perché quel milioncino che avresti preso dal prestito di Cajust lo andavi poi a usare sul prestito per Brescianini e qui torniamo sempre al solito meme i soldi ce li abbiamo solo noi ci accendiamo i sigori con le banconote ecco, torniamo sempre al solito discorso prendere per il culo i tifosi quindi ragazzi Brescianini è saltato perché è saltato Cajust paro paro a quello che è successo l'anno scorso con Gabri Vega paro paro Gabri Vega perché è saltato? perché era saltato Zienischi in Arabia i soldi che avresti preso dalla cessione di Zienischi li avresti poi spesi per Gabri Vega infatti il Napoli l'anno scorso che ha fatto? è saltato Zienischi hanno provato a cambiare gli accordi all'ultimo a tutto perché non c'erano più soldi di Zienischi e la trattativa è saltata poi si è messo in mezzo poi non mi ricordo quel procuratore potente che fece andare Gabri Vega in Arabia però tu di base hai voluto cambiare le condizioni dell'accordo perché non si è riuscito a vendere Zienischi la stessa cosa adesso Cajust è saltato i soldi che avessi dovuto prendere da Cajust non sono arrivati quindi Napoli ha provato a cambiare le condizioni e gli è andata male Brescianini è saltato per questo motivo e non perché durante le visite mediche ADL se esce Tatait no, vogliamo uno di maggior spessore Brescianini non lo vogliamo ora che Brescianini è saltato chi viene? perché ragazzi qualcuno deve venire perché è foro russo pare che andrà alla Lazio Cajust non è considerato parte integrante della Rosa tu oggi a livello effettivo hai due centrocampisti Anghissa e Lobot non c'hai cambi a livello effettivo domenica c'avrai due centrocampisti ok? ora chi viene al posto di Brescianini? ieri si è fatto un nome che a me piace molto che però non so se può essere preso ragazzi perché se Brescianini è saltato per un milione questo come lo pigliamo? di chi sto parlando? McTominay questo centrocampista scozzese di 27 anni del Manchester United ragazzi McTominay sarebbe perfetto nella mediana 2 perché è quel giocatore box to box quel centrocampista che sa fare sia la fase difensiva che la fase offensiva c'ha il tiro da fuori sa accompagnare l'azione c'ha una freddezza sotto porta che fa paura è perfetto nella mediana 2 è perfetto come giocatore poi McTominay sarebbe quel famoso nome che potrebbe seriamente mettere in discussione a chissà ok? perché McTominay ragazzi è un bel giocatore tra l'altro capitano della Scozia mi pare che è stato il capocannoniere della Scozia nelle qualificazioni europei comunque è un giocatore che sarebbe perfetto nella mediana 2 di Conte ci sono però dei problemi e questi problemi si chiamano paletti paletto numero 1 il cartellino McTominay secondo Transfermarkt vale 32 milioni ci sono due cose da dire il contratto scade nel 2025 quindi tra un anno e poi pare che lo United voglia cederlo perché sta prendendo Manuel Ugarte dal Paris Saint Germain quindi potrebbe essere un nome messo in lista cedibili a scadenza da un anno quindi potresti magari prenderlo a poco paletto numero 2 gli ingaggi secondo Capology McTominay percepisce 2 milioni netti siamo un po' lì lì siamo borderline perché il Napoli diciamo che sui ingaggi Politano che è il più alto dopo Ozyman prende 3 milioni e qualcosa quindi siamo lì lì terzo paletto l'attrattività McTominay gioca nello United Manchester United che già dire così è 100 volte meglio del Napoli gioca anche l'Europa League verrebbe McTominay nel Napoli dove non si giocano le coppe quindi ragazzi non è proprio una trattativa facilissima aggiungiamoci che Brescianini è saltato per un milione e io questa cosa veramente è scopazzo e quindi come possiamo pretendere di prendere McTominay ecco quindi mi sa mi sa che resterà un sogno irraggiungibile almeno per adesso quindi McTominay non lo so comunque ragazzi Brescianini è saltato è su questo dobbiamo metterci l'anima in pace e attenzione ragazzi io non è che mi sto strappando i capelli perché è saltato Brescianini ok? perché non è che stavamo prendendo il Messia certo era un calciatore che poteva risolverti dei problemi a centro campo il problema è il modo in cui è saltato ti fa proprio capire come stiamo messi cioè noi per un milione non siamo riusciti a prendere un calciatore del forosino nel processo in serie B è questa la cosa che ci deve far riflettere detto questo capitolo Nathan pare che la voce sul Betis sia vera pare che Nathan andrà seriamente al Betis dicono che la gente già sta a Siviglia pare che la trattativa ormai sia già stata fatta manca pochissimo alla chiusura parliamo di un prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni e questo diritto diventerebbe obbligo dopo un tot numero di presenze innanzitutto lato economico fanno una plus valenza perché Nathan l'anno scorso le ha presa a 10 il primo anno hai ammortizzato il 40% quindi hai ammortizzato 4 milioni se ne bastavano 6 per fare una plus valenza solo sul cartellino lo vendi a 9 tra l'altro tra un anno quindi hai ammortizzato ancora di più quindi la plus valenza l'hai fatta seconda osservazione da fare ragazzi se esce Nathan vuol dire che Juan Jesus non lo vuole nessuno quindi ragazzi tutti voi che giustamente chiedete ma perché non ci togliamo Juan Jesus ragazzi Juan Jesus non lo vuole nessuno è un giocatore che ha zero mercato quindi mettiamoci l'anima in pace c'ha solo questo anno di contratto quindi facciamoci quest'altro anno con Juan Jesus e poi ci salutiamo ok e da parlare di Juan Jesus vedete che succede terza osservazione da fare Nathan Cajust Lindstrom Dendonger Traoreo C'è Ngonger che forse va pure via praticamente nell'arco di un anno abbiamo bocciato in toto il mercato dello scorso anno tutti tutti sono stati bocciati da Nathan fino a Ngonger che forse va via perché ragazzi se il famoso David Neres che intanto è un po' sparito dai radar se deve entrare David Neres deve uscire in gong perché Politano sta lì bello tranquillo posto inamovibile Kvara non alzardatevi nemmeno a venderlo e poi c'è Rasputuri quindi deve uscire in gong per fare entrare a Neres questo perché per le famose liste perché considerando Mario Rui fuori rosa siamo giusto giusto 17 over 22 quindi oltre al Gaetano che non libera slot così come Zerbin deve uscire qualcuno per fare entrare qualcuno quindi deve entrare Gilmour deve uscire Kaiust deve entrare McTominay o un altro box to box deve uscire Folo Russo deve entrare David Neres deve uscire Ngong deve uscire deve entrare un difensore al posto di Nathan deve uscire Nathan ok ora Nathan a quanto pare andrà via pure lui non me l'aspettavo sinceramente perché pensavo che Nathan fosse almeno l'unico che poteva salvarsi continuo a pensare che questi calciatori stiano pagando l'annata scorsa io non credo che Nathan e Lindstrom siano gente scarsa comunque ormai è stato deciso così ora la mia domanda è la seguente chi arriva al posto di Nathan arriva a un bracetto sinistro di ruolo e questa secondo me sarebbe la scelta migliore perché il bracetto sinistro ti permette di far scalare tutti i vari giocatori in difesa e li fai giocare tutti nel ruolo ruolo adatto Buongiorno farebbe il centrale Rachman il bracetto destro e Di Lorenzo farebbe l'esterno destro a tutta fascia piccola parentesi il pur bravo Hermoso è ancora svincolato nel mentre non ci sono offerte ha anche carambiato procura mi pare che è passato circa un mese dal comunicato del Napoli non mi ricordo comunque è passato del tempo da quel comunicato e il pur bravo Hermoso sta ancora svincolato quindi io ho un pensierino ce lo mantengo sempre magari andando un po' più avanti quei giorni magari lui abbassa le pretese capisce che non ci sono offerte e quindi si accontenta di qualcosa in meno ma lo so io ipotizzo io però il pur bravo Hermoso me lo tengo lì quindi il bracetto sinistro sarebbe l'opzione migliore perché così tutti giocano nei loro ruoli naturali seconda opzione che è quella un po' che sa di adattamento adattiamoci cioè si prende l'esterno destro ok quindi buongiorno rimarrebbe braccetto sinistro raccmani al centro di Lorenzo braccetto destro e si prende un esterno destro vedete voi chi Wanderson Dejic non lo so però queste sono le due opzioni in entrambi i casi ci avresti tre riserve come Olivera Juan Jesus e Rafa Marin ok quindi l'uscita di Nathan potrebbe portare a una di queste due opzioni io spero vivamente che sia che alla fine venga un bracetto sinistro perché io in difesa vedo un po' troppa gente messa in ruoli adattati ok chiudiamo il capitolo Nathan e passiamo a Gilmour Sky ieri si era ci ha dato degli aggiornamenti praticamente sappiamo che l'accordo col calciatore già c'è contratto quinquennale da un più o meno due milioni di ingaggio c'è da trovare l'accordo col Brighton dicono che il Napoli abbia offerto 12 milioni più 3 di bonus col Brighton quindi ci stanno un po' avvicinando sempre con molta calma alla cifra che chiede il Brighton torniamo sempre al solito discorso Gilmour se non esce Cajust non viene se non esce Cajust non entra a meno che non mettono pure Cajust fuori rosa però poi diventano troppi e che facciamo ripetiamo Demme ogni anno perché non si riesce a piazzare già abbiamo Mario Lui che è impossibile da piazzare se ci mettiamo pure Cajust fuori rosa proprio andiamo benissimo quindi serve la cessione di Cajust per vedere l'arrivo di Gilmour anche perché i soldini è 12 milioni da dove li prendiamo quindi Gilmour finché non venne ceduto Cajust io non lo vedo fattibile parliamo adesso di Foro Russo allora sappiamo che c'è la Lazio che pare che sia la squadra più interessata a lui l'abbiamo già detto Vivaio Lazio è un giocatore che piace a Baroni il DS Fabiali ha praticamente detto che c'è da fare prima delle uscite quindi ragazzi detto in parole povere questo l'ha detto anche Pedulla non è una roba che si risolve in pochi giorni addirittura Pedulla ci ha detto che la trattativa potrebbe slittare dopo la prima giornata cioè quindi settimana prossima la valutazione è attorno ai 12 milioni 12 milioni Folor Russo 12 milioni Gilmour ok dopo la prima giornata praticamente settimana prossima meglio che non dico altro avevano parlato di un prestito biennale per Folor Russo io però mi ricordo che i prestiti biennali erano stati cancellati non è più possibile farli comunque ragazzi se ne parla settimana prossima capitolo Lukaku e qui poi chiudiamo il video allora ieri nuovo nuovo capitolo nuovo round della telenovela Ozyman Chelsea l'ultima offerta che hanno detto adesso è che Chelsea avrebbe dato Lukaku più 60 milioni più 10 di bonus per Ozyman e io dico se questa è vera se questa offerta è vera accettate non fategli manco finire il discorso dite si accetto venitevelo a pigliare grazie 60 più Lukaku quanto vale Lukaku 20-30 quindi siamo già sugli 80-90 e già siamo a posto poi ti danno pure 10 milioni di bonus ve lo porto io in spalla Ozyman se queste sono le cifre qual è però il problema è che Ozyman non vuole andare al Chelsea perché c'ha l'accordo col Paris San Germain che evidentemente gli offro di più basta basta ragazzi basta non voglio più dire niente perché altrimenti mi nervosisco dico soltanto una cosa dico soltanto una cosa oggi è il 14 agosto è mercoledì tra quattro giorni inizia il campionato e noi dobbiamo prendere un braccetto sinistro barra esterno di centrocampo destro due centrocampisti le riserve di Lobot che gli sa un trequartista se è vero che il gong va via il centroavanti titolare più la riserva se parte Ozyman quindi a 16 giorni dalla fine del mercato il Napoli deve fare sicuro quattro acquisti di cui due titolari 16 giorni ragazzi io lo dico ho la netta sensazione che la rosa non sarà completa non sarà completa perché io non ci credo a un Napoli che in poco più di due settimane fa quattro acquisti con altrettante cessioni perché tu poi devi fare gli acquisti ma devi vendere Caiust devi vendere Folorunso devi vendere Nathan quello pare che sia fatto devi poi vendere Simeone devi poi vendere anche Chedira devi vendere gonghe che sarà difficile perché tu gonghe le prese a gennaio quindi silenzio il silenzio vale molto vale più di mille parole quindi ragazzi questa è la situazione a oggi 16 agosto vi aspetto nei commenti io chiudo qua perché altrimenti rischio veramente di alterarmi e di dire cose poco carine quindi fatemi sapere la vostra nei commenti lasciate un bel like se il video vi è piaciuto iscrivetevi mi raccomando se siete se i miei contenuti vi piacciono è totalmente gratis e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video detto questo ragazzi noi ci vediamo alla prossima sempre e comunque forza Napoli perché quello non mancherà mai domenica si gioca e non vado oltre ciao ciao